Parliamo di una novità, così diamo un messaggio anche alla vecchia giunta, ma diamo un messaggio anche alla Scea e quindi ci mettiamo d'accordo anche con le nostre società interne. La raccolta della nettezza urbana a Terni fa totalmente schifo. Come fa totalmente schifo? A Roma. Perché questo meccanismo che la Scea ha portato come grande novità dei bidoncini dove si fa la raccolta differenziata casa per casa è una roba medievale, fa schifo, puzza, insozza totalmente la città, non serve a una minchia a livello di situazioni di differenziata ma mi riporta indietro quando da piccoletto andavo a buttare nel camion che passava tutti i bidoni che mia mamma aveva messo fuori. Quindi questa cosa a breve, nell'arco del 24, sarà tolta. Arriveranno bidoni veri, arriveranno chiavette, ognuno avrà la sua chiavetta per buttare la mondezza. Ciao a tutti!